L'Alegrini S.P.A. è un'azienda storica creata nel 1945 a Vila Dalmè. I sacrifici erano tanti perché mio padre era partito da zero. E mio padre e mio zio appunto li prendevano anche un po' come una sfida. Tant'è che allora comprarono più di 120 furgoni Volkswagen. E così col passare del tempo appunto Allegrini cresce e diversifica i settori sempre di più. Si creano i prodotti sempre più specializzati per il settore delle pulizie industriali, della pulizia, nell'ambito anche della ristorazione. Nell'auto anche i prodotti sono sempre più performanti. Tutto quello che si vede qui, che è l'impianto di miscelazione, si trova qui e in altre realtà, anche simile a nostra, non si può trovare nello stesso modo. C'è una correlazione fra l'arrivo delle materie prime, La corretta analisi da parte del laboratorio e soprattutto l'utilizzo immediato da parte della produzione nella tipologia richiesta. Oggi Allegrini è cresciuta, è cresciuta parecchio. Le capacità produttive sono veramente molto interessanti. Quando parliamo di Linehotel, parliamo di una capacità produttiva di 400.000 flaconi al giorno. 400.000 flaconi al giorno significa che di questo prodotto noi produciamo tutto. Il flacone, il tappo, la personalizzazione del flacone, il contenuto, il confezionamento. Ma ancora più importante, quante referenze produciamo in un giorno? Per quanto riguarda la detergenza abbiamo più di 1950 referenze. Se io lavoro in ambito sanitario posso utilizzare un prodotto che ha un principio attivo di un certo tipo che grazie alle diverse percentuali di utilizzo è idoneo oppure non idoneo. Lavorare sulla qualità, sul made in Italy, sull'attenzione al particolare, al pregio. Il prodotto che Allegrini deve vendere al cliente deve essere come un vestito su usura.